musica 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 tss ma adesso non devo bestemmere perchè prendiamo tss e questo è una specie di campo da caccio che fido perchè non possiamo prendere il tilo bel tilo praticamente sarebbe il tuff versione è sotto si praticamente sarebbe il tuff ma con spazio ah eccolo qua eh eh guarda che bello no ecco qua ah spero spero pensavo di averlo sfondato più carino più carino più carino come interni più che altro perchè di per sé fa cagare almeno esternamente che bello ci sono le scale ah proprio così me lo dici oh una finestra la finestra da quale fare piccare la macchetta fuori così ah questa è da foto ma se io provo ma perchè è una cazzata porta non utilizza la porta si apre ma perchè tanto appunto questa cosa non posso non partire ok è corrosso qualcosa mi dice che partivo con 10 minuti dita ma ti rendi conto che non hai partito e io già mi sono incassato ma che merda qua deve partire però devo essere onesto è più comodo del tuff non ci credo è partito vabbè il sound è praticamente stai scherzando vero stai scherzando vero stai scherzando già imprimato la divergenza già imprimato la divergenza è una cosa la mia cosa si 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 Grazie. Buongiorno. Comunque... Le scale sono più belle ed evitano di far ammazzare le persone non come quelle sul tappo. Poi tipo il vetro... Il vetro è figo. Sì. No. Sì. Ma che adesso... Si è giù di un cartello. Milano? Sì. 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 Buon idea su tutta la cosa. La cosa più bella che io abbia mai visto. Sì. 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 Sì.